oramai delle prove e quindi nella mia battaglia contro la psichiatria ci mettiamo anche quindi che mi ero già accorto oltre 15 anni fa che la luna vedete si muove anzi mi segue addirittura io spero con intenzioni benevole positive e quindi oltre ad essermi accorto e quindi di avere dei doni dello spirito quindi che volevo mettere a disposizione dell'umanità e quindi me lo impedivano in tutti i modi la chiesa non mi aiutava e solo quest'anno abbiamo capito perché c'era fillini contro fantossi e quindi più la signora peppa che ci remava contro in maniera incredibile e poi sono stato perseguitato perché sostenevo anche mi ero accorto di avere dei figli a oggi ampiamente dimostrato con figli celebri che non mi possono rispondere e a tutto oggi non si può fare il mio nome in maniera scandalosa quindi a una settimana dalla natività solenne e dalle elezioni in america che comunque sia sono molto importanti e ci stiamo avvicinando in una maniera scandalosa a dir poco buon weekend